Siamo qui con Manuel Pozzi, Investment Director di M&G, al quale vogliamo un po' chiedere quali possono essere gli obiettivi a lungo termine per gli investitori? Buongiorno innanzitutto. Beh, innanzitutto i risparmiatori italiani hanno un obiettivo primario che è quello di preservare il valore del loro risparmio. Secondo, in alcuni casi, è anche quello di farlo crescere. La realtà è che difendere il valore del proprio risparmio oggi è difficile perché con i tassi negativi o vicino allo zero anche per i BTP a lungo termine è difficile tenere il passo con l'inflazione che negli ultimi decenni è stata attorno all'1,3% nonostante tutte le crisi che abbiamo avuto. Quindi bisogna guardare oltre i bond tradizionali per andare a cercare di difendere il proprio risparmio. L'altro elemento è quello di far crescere il valore del risparmio anche perché le finanze pubbliche purtroppo sappiamo essere sempre più in difficoltà anche per un fenomeno demografico fortissimo. La popolazione invecchia ovviamente e soprattutto il rapporto tra gente in età di lavoro e gente in età pensionabile o da pensione sta peggiorando a livello europeo in generale. Questo vuol dire che il settore pubblico avrà sempre meno risorse da destinare a noi poveri cittadini. Bisogna far crescere il risparmio e per farlo bisogna puntare a una logica anche un pochino più di medio e lungo termine. Perfetto. Invece per quanto riguarda la strategia che M&G ha per quanto riguarda le infrastrutture? Abbiamo messo a punto una strategia legata al tema delle infrastrutture per far sì che i privati che hanno questa esigenza di far crescere il valore del risparmio ma con basi solide, con una certa sicurezza e in minore volatilità rispetto all'azionario tradizionale adesso degli strumenti a disposizione. Le infrastrutture sono un investimento tipicamente di lunghissimo termine destinato agli investitori istituzionali. Noi andiamo a guardare le infrastrutture quotate, le aziende specializzate che dettengono infrastrutture e le gestiscono, soltanto quelle di primaria importanza. Ci sono le utility, c'è la gestione delle autostrade, dei porti, degli aeroporti ma poi c'è anche tutta una parte di infrastrutture di nuova generazione. Quindi nella nostra strategia che è specializzata sulle infrastrutture quotate andiamo a cercare di avere la protezione, la sicurezza, la crescita dei dividendi graduale ma anche poi lo sprint derivante dai temi di nuova generazione. Ad esempio i centri di elaborazione dei dati a cui si appoggiano tutte le grandi aziende di tecnologia legate all'internet economy piuttosto che le torri di trasmissione dei dati 3G, 4G e 5G. Ci sono molte aziende che hanno queste infrastrutture e tutte le aziende di tecnologia devono andare a cercare il loro servizio per cui cerchiamo di dare questo equilibrio nella gestione del portafoglio.